Sì, è vero, il Movimento 5 Stelle aveva promesso in campagna elettorale di reintrodurre l'articolo 18 e non ha mantenuto la promessa, come probabilmente accadrà anche per il TAP. È vero anche che il reddito di cittadinanza appare piuttosto lontano per usare un eufemismo e difficilmente le persone che li hanno votati si accontenteranno di aver risparmiato le briciole con l'aereo di Renzi, che non era di Renzi, o con l'espulsione del deputato assenteista e velista che per assurdo oggi è nel gruppo misto e guadagnerà di più. Ma non è di questo che mi interessa parlare ora, no? Perché ieri, intorno all'articolo 18, si è consumato un macabro balletto che ha confermato, nel caso ce ne fosse bisogno, che con questa opposizione, con questo PD, il cammino sarà torrito, faticoso, lunghissimo. Ricapitoliamo. L'EU propone un emendamento al decreto dignità chiedendo la reintroduzione dell'articolo 18. Il famigerato articolo 18, Movimento 5 Stelle e Lega bocciano l'emendamento. Si leva improvvisamente la protesta del PD, tutti impegnati a raccontare che Di Maio non mantiene le promesse e rilanciando la cosa dappertutto. Badate bene, loro sono quelli che l'articolo 18 l'hanno cancellato, con suntuosa soddisfazione di Renzi, Confindustria e compagnia cantante. E sono gli stessi che non devono aver letto che il loro Jobs Act piace a meno del 10% degli italiani, secondo un recente sondaggio, che poi basterebbe per i risultati delle elezioni, senza bisogno di sondaggi. Anzi, fanno di più. Ieri hanno rivendicato il loro Jobs Act. Così, in scioltezza. Geni. Ma il bello deve ancora venire. Uno pensa, se sono così convinti di avere fatto bene al governo, avranno votato contro l'emendamento per la reintroduzione dell'articolo 18. No, si sono astenuti. E dentro quell'astensione c'è tutto il sottovuoto spinto di un partito, che ha presente chi siano i loro nemici, appare piuttosto confuso sul da farsi e drammaticamente smemorato su ciò che ha fatto. Diventa difficile che siano credibili, minniti, mentre parla degli sbarchi in Libia, o i padri del Jobs Act che ci parlano di lavoro. La loro strategia suicida è che nei prossimi mesi tutti gli elettori tornino a loro con le mani giunte, dicendo, avevate ragione, avete fatto tutto giusto, siete stati bravissimi così. Sì, ciao. Proprio ieri, intanto, Gori e Kalinda si sono accorti che negli ultimi anni c'è stato un fenomeno di accumulazione di ricchezze che ha, hanno scritto così, impoverito quelli più in basso. Ma va, l'articolo 18, intanto, viene usato ancora una volta come il fuoco intorno a cui inscenare il balletto, confidando che nessuno si accorga che l'opposizione del PDA al decreto dignità continua a sposare le posizioni di Confindustria. Forte, questa opposizione. Se domani tornasse il figliuò il prodigo pentito, no, no, non Matteo, proprio quello della parabola, questi lo lascerebbero fuori, chiedendogli di ripassare dopo il congresso. Me li vedo, mentre litigano, nascosto, dietro allo spioncino. Buon giovedì.